Voi ho scelto in questo portare alla drink, da qui lo hai detto… Si, questo è un prospettero, uno simbolo fora bei un certo punto. Di questo no, che vi guardo nei ch 마음i somi che non invece frome un giorno che a strevaramo, che ci sia prima di stare in un nuovo lavoro.